In quest'ora sono impegnato ad avere interlocuzioni col Parlamento e col Governo per affrontare temi che voi conoscete bene, cominciare dal debito storico e il debito ingiusto e non vi nascondo che si ha proprio difficoltà a interloquire, non ad avere incontri, proprio perché non ha interlocutori. In questo momento il Paese non ha interlocutori istituzionali a livello centrale con cui poter parlare, perché mentre là si discute c'è un Paese che ha sofferenze, che ha sogni, che ci sono impegni da rispettare e c'è da lavorare tanto. I sindaci ci sono, ci sono sempre stati, nei momenti di gioia e di difficoltà, qua da due mesi non abbiamo una legge che avanza e un Governo che si intravede. E lei quindi auspica che si ritorni al voto? No, 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 auspico che ci sia un Governo, da sindaco, questo è un auspicio, ma assolutamente sì, guardate che è da gennaio che non c'è un Governo nell'espansione piena delle sue funzioni, perché diciamo correttamente il Presidente Gentiloni e il suo Governo da gennaio fino a marzo hanno fatto una gestione più ordinaria, poi si è passata all'ordinaria amministrazione, adesso chiaramente è quasi come se non ci fosse un Governo nel nostro Paese, c'è un Governo nel quale i sindaci, i cittadini, il Paese, il mondo economico, il mondo sociale, il mondo delle sofferenze può interloquire. E non mi sembra che si intravede all'orizzonte un Governo politico sicuramente, quindi a questo punto bisognerà vedere quale sarà la soluzione che adotterà nell'alto delle sue funzioni. e con la saggezza che lo contraddistingue il Presidente Mattarella, da sindaco posso dire che si comincia a vedere il vuoto politico che c'è in questo momento nel nostro Paese.